Ennesimo giorno di quarantena sapendo ancora oggi cosa fare mi dedico alla pulizia dei cupolini questo è quello la in fondo la pulizia di insetti foglie e quant'altro è andato fra la zanzariera e il cupolino stesso ok ammazza quante cimici incredibile notare quante cimici è un cimiciaio unico non vi dico che puzza che c'è tremenda porca miseria che schifo la puzza e la miseria che c'è l'allevamento mamma mia vabbè puliamo anche qua ok Grazie.